Ospite nel nostro telegiornale è Luca Trapanese, Assessore al Welfare e alle politiche sociali del Comune di Napoli. Ben trovato, grazie per essere qui, Assessore. Grazie a lei sempre. Allora, Assessore, l'arreddito di cittadinanza ha messo a dura prova la tenuta sociale di molte città, tra cui certamente Napoli, che ha tanti problemi. Bisogna però garantire il supporto per i fragili. Questo il governo Meloni l'aveva in qualche modo assicurato, ma nel concreto e nello specifico, dopo il primo settembre, cosa è cambiato e cosa si sta facendo per i fragili? Allora, non è cambiato nulla. Dobbiamo fare un chiarimento. Le persone che adesso hanno il reddito di cittadinanza sono quelle persone che hanno un minore, un disabile o un ultra sessantenne in famiglia. E a quelli non è stato toccato il reddito. Il problema è tutti quelli che non erano presi in carico dai servizi sociali, ma nel centro per l'impiego, e che sono stati, praticamente hanno cessato il reddito di cittadinanza con il famoso messaggino sui social. Adesso, quelle persone, che ne sono tante, stiamo parlando di oltre 200 mila persone, ad oggi siamo arrivati, potrebbero avere dei criteri di fragilità, per cui è impossibile attuare il percorso di inserimento lavorativo, formazione e inserimento lavorativo. Noi non abbiamo ancora le linee guida. I servizi sociali, qualora dovessero prendere in carico un soggetto fragile, non hanno bene la consapevolezza di quale è la fragilità. Mi spiego bene, perché io ho fatto degli esempi durante un incontro con il ministro. Una donna che ha subito violenza in un centro antiviolenza, come fa a intraprendere il lavoro? È una questione di fragilità. Una persona depressa, che è presso un centro ASL, al CERT, come fa a lavorare? Un ragazzo che ha un percorso di tossicodipendenza. Quindi tutte queste soluzioni potrebbero essere risolte laddove ci sia una certificazione dell'ente, quindi dell'ASL, dei centri per l'accoglienza delle persone che hanno subito violenza. Insomma, però questo non è chiaro e non abbiamo nessuna possibilità di accogliere in questo momento le cosiddette persone occupabili, fragili. E quindi il Comune di Napoli, nella fattispecie specifica, cosa può fare e cos'è di sua competenza? Perché chiaramente poi il problema ricade sui comuni, che devono tenere e badare alle tensioni sociali, che talvolta sono esponiziali. Esatto, innanzitutto io mi sento di dire che i servizi sociali sono sempre dalla parte dei cittadini e quindi di prenderli come punto di riferimento e non come bersaglio. Questo è importantissimo. Il Comune di Napoli cosa può fare? In questo momento noi stiamo immaginando di prendere in carico tra gli occupabili quelli che hanno una certificazione seria da un ente riconosciuto. Quindi se io ho una forte depressione e sono impossibilitato a lavorare, sarò preso in carico da un neuropsichiatra, avrò una relazione, allora in quel caso io posso immaginare di prenderlo in carico. Altre situazioni non è possibile. C'è una questione che noi dobbiamo ricordare, che tutte le persone che adesso sono con il reddito di cittadinanza, hanno il reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre, ma dal 1 gennaio avranno l'ADI, l'assegno di inclusione. Non sarà automatico. Queste persone devono recarsi al CAF o al patronato e rifare la richiesta ed essere di nuovo presi in carico dai servizi sociali. Insomma, quindi è anche una tranquilla burocratica molto lunga. Tra l'altro bisogna sempre tutelare le persone che comunque hanno minori. Comincia la scuola, la scuola porta a spese. Abbiamo visto che purtroppo è aumentato tutto a dismisura e anche tutto l'occorrente per far sì che un figlio possa andare a scuola tranquillamente e serenamente. A questo punto il Comune di Napoli cosa può fare anche per queste famiglie? Guardi, noi ci dobbiamo dire la verità. Fondamentalmente noi in questo momento abbiamo terminato tutti i fondi che avevamo, tutti i bonus di cui abbiamo parlato quest'inverno sono stati tutti erogati e non abbiamo altri fondi se non quelli che il Comune usa per la quotidianità. Quindi il Comune non ha delle disponibilità in autonomia. Certo stiamo pensando con l'amministrazione come poter sopperire. E' inutile che io le nascondi, che ci sono una marea di mail, di messaggi di gente che non riesce ad arrivare a fine mese. E questa è la mia più grande preoccupazione. C'è gente che non riesce a pagare il fitto, a portare un piatto a tavola, non ha un lavoro, la scuola è un problema. Dobbiamo avere un aiuto dallo Stato. Questo è quello che noi abbiamo chiesto, un aiuto importante allo Stato perché altrimenti non ce la possiamo fare. Anche la card dedicata a te ha creato una grande confusione e una grande disparità. Perché rispetto a tutte quelle persone che ne avevano il diritto, e su Napoli erano ben 72.800, lo Stato non si era fatto bene il conto e ne ha date solo 31.400. Quindi sono rimaste fuori 42.000 persone con una card che non ti dà la continuità perché è una tantum, non la rivedrai l'anno prossimo, non è detto, e ha creato un grande senso di disparità tra le persone aventi diritto. Certo, quindi è una situazione veramente difficile da gestire per i comuni e le amministrazioni. Adesso abbiamo analizzato la situazione dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista politico. Lei chiaramente appartiene al Movimento 5 Stelle che è stato il fautore del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, così come era stato concepito, andava secondo lei rivisto con modalità diverse? O bisognava continuare su quella strada? Un'analisi politica onesta considerando anche le difficoltà economiche del Paese. Allora, consideriamo esattamente di dover essere onesti e che la politica deve essere dalla parte del cittadino sempre, non pensare ai propri interessi. Io credo che il reddito di cittadinanza, così com'era, non andava bene, questo ce lo dobbiamo dire, ma non andava tolto in questo modo, andava rivisto, andava dato del tempo alle amministrazioni, perché noi abbiamo avuto un periodo del Covid dove non ha dato la possibilità di una accelerata di tutte le azioni. Però, pur di non toglierlo di dire che abbiamo tolto il reddito perché non serviva, io invece avrei rivisto quello che c'era e rielaborato una serie di percorsi, perché per esempio noi in Napoli, con l'assessore Marciane, con l'assessore Santagata, abbiamo attivato una serie di cosiddetti PUC, c'erano tante persone che iniziavano a Napoli, non voglio dire sciocchezze, ma mi sembra che era la città più impegnata nell'attivazione dell'inserimento lavorativo, quindi andava rivisto e questo creerà un grande disagio sociale e non facciamo del bene ai cittadini. Certo, insomma, anche perché chiaramente ci troviamo in un contesto politico molto difficile, perché il post-Covid, che comunque ha lasciato segni importanti per quanto riguarda la crisi economica, va a interfacciarsi con la crisi dovuta alla guerra, con questi prezzi aumentati anche un po' per speculazione, dico io, perché insomma poi bisognerebbe capire il motivo di certe spese, proprio di beni di prima necessità aumentati. E' tutto triplicato, è completamente triplicato, c'è la guerra, sicuramente c'è la crisi economica, c'è il dato dell'immigrazione. Esatto, l'immigrazione è un altro problema che volevo analizzare con lei. Perché noi nel 2019 avevamo circa 7 mila immigrati, adesso siamo già a 28 mila. Io ho accolto da gennaio ad agosto 963 minori non accompagnati, che vanno a incidere sulla nostra economia, perché entrano nelle nostre comunità, il comunese deve prendere carico, c'è una forte pressione e quando noi vediamo le persone per strada che si lavano sotto la fontanella, dobbiamo anche ragionare non solo come mai, ma come facciamo a prenderci carico di tutte queste persone che arrivano. I comuni sono al collasso, noi abbiamo fatto un incontro importante col Ministro Piantedosi, con i sindaci e tutti i comuni parlavano di un collasso nell'accoglienza dei minori non accompagnati e degli adulti immigrati. Questo è un tema che va a incidere enormemente sulla nostra politica del welfare. Certo, noi appunto stiamo vedendo queste immagini di un'operazione di accoglimento da parte del Comune di Napoli che c'è stato proprio a fine agosto. Oltre ad accoglierli nell'immediato, bisogna anche programmare un futuro per queste persone per fare in modo che non diventano poi manovalanza per la criminalità organizzata. Venerdì ci sarà nuovamente a Napoli il Ministro dell'Interno Piantedosi, ci sarà una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica perché è un altro tema importante per la nostra città e questa escalation di violenza tra i giovani che va chiaramente a innescarsi su un tessuto sociale assolutamente lebole. Sì, sicuramente tutte le cose che abbiamo visto, la morte di GioGio ci deve far riflettere rispetto ad un fallimento di tutto il sistema. Io sto immaginando di creare un meccanismo che in questo momento non c'è e cioè la vera presa in carico della persona da parte di tutte le istituzioni. Noi non sappiamo quel ragazzo che ha sparato GioGio, quali precedenti penali avesse, che cosa faceva la famiglia, il padre si era in galera, se ha altri fratelli più piccoli che devono essere tutelati, altrimenti ce li troviamo tra qualche anno in strada. Immaginare di creare un sistema di messa in rete dove io conosco vita, morte e miracoli di quella persona e di tutte le azioni che la Procura dei Minori, l'ASL, la scuola, i servizi sociali hanno fatto rispetto a quel ragazzo e che cosa è stato attivato e come posso interagire. Io credo che questo sia importante, partendo anche dai pediatri, perché la prima azione che noi facciamo come famiglia è andare al pediatra ed è il primo che ha la capacità di capire la situazione familiare, com'è il bambino, in che condizioni di vita vive, poi la scuola, poi i servizi sociali, la chiesa, questo è un percorso che noi non abbiamo e lo dobbiamo costruire. Certo, è assolutamente importante, è importante anche capire che ormai non si può parlare più di famiglia come famiglia tradizionale, padre e madre e figlio, così come ha ribadito, ahimè, il Ministro della Famiglia che ha cercato di chiarire quelle che sono le posizioni. Noi per salvare questi ragazzi forse dobbiamo anche allargare la possibilità di affidarle a famiglie non tradizionali, ma che possono avere a cuore il bene del ragazzo, perché bisognerebbe salvare, perché nella morte di Giorgio muore anche un altro ragazzo, il 16enne che ha sparato. Per questo siamo sconfitti, perché erano due figli della nostra comunità che pagano con la loro vita. Io ovviamente sono estremamente contrario rispetto alle affermazioni del Ministro, perché forse, dico una cosa forte, la famiglia tradizionale non è mai esistita, sono sempre esistite le famiglie, oppure la famiglia intesa come centro nucleo dove le persone vivono e hanno il desiderio di condividere insieme gioie, dolori, amore, tradimenti e immaginare di tutelare solo un modello significa lasciare fuori tutti, invece di immaginare di allargare le famiglie, di prenderci carico dei nostri figli, non di mia figlia Alba, ma di tutti i nostri figli, perché se io non mi prendo carico anche di quel ragazzo che cammina con la pistola, pagherò comunque le conseguenze, perché me lo ritrovo per strada e può uccidere un altro mio figlio. Io riprenderei completamente il discorso sulla famiglia, ripartire da un senso di villaggio, se ci pensa noi abbiamo perso proprio quell'idea che i figli sono di tutti, quando io ero piccolo camminavamo in strada e ci guardavano i grandi, senza distinzione di chi era il figlio di chi, questo è perso nella grande città, abbiamo perso i punti di riferimento e ne stiamo pagando le conseguenze. Adesso nelle sale cinematografiche uscirà un film che racconta la storia che lei ha già raccontato in un libro nata per te, chiaramente ci riferiamo ad Alba, questa bambina splendida che tutti quanti noi conosciamo, che lei ha adottato, nonostante dobbiamo dire avesse la sindrome di Down, perché ricordiamo Alba era stata rifiutata dalle famiglie cosiddette, tra virgolette, tradizionali. Chiedo alla regia di far vedere il promo del film e poi rientriamo in studio con l'assessore Trapanese. Signor Trapanese? Sì, sono io. Tribunale dei minori di Napoli, la chiamiamo per la sua richiesta di affido. Come l'ho detto al telefono, la bambina è down. La sua esperienza è qualcosa che ci ha sorpreso positivamente. Veramente tu e tua moglie sareste disposti a prendere Alba? Io non ho una moglie, sono lei. Ma tu che devi creare che stiamo a Svezia? Io sono un'avvocata. Tu devi essere orgogliosissimo di averlo detto. In Italia l'adozione non è possibile, punto. Ma la fida finalmente sì. Profilo di Luca Trapanese ottimo. Stiamo cercando una famiglia, composta da due persone, ma mamma e un papà. Che io non ci riesco, Luca? Lei mi deve dire quanti rifiuti è disposta ancora a far vivere ad Alba. Ci sono delle regole. E se queste regole fossero sbagliate? Possiamo provare una strada. Si tratta dell'affido temporaneo. Un mese. Noi dobbiamo costruire un pezzo alla volta. Fino a Marlowe. L'affido è temporaneo, lo so. Ed è irrevocabile senza alcun obbligo di motivazione. Ma l'affetto no. No, l'affetto no. Tu non la puoi perdere questa battaglia. Alba è nata per te. Io sono nata per lei. Nuove sensazioni. Allora, Assessore, un film che racconta una storia personale, ma apre la riflessione su un tema che è veramente importante per la salvezza di tanti bambini. Sì, questo è un film che mi angoscia tantissimo per l'uscita, perché ovviamente mi vede protagonista, ma io ci tengo sempre a dire che io e Alba non siamo straordinari. È una storia ordinaria. Ognuno di noi dovrebbe avere nella sua vita, essere straordinario nella sua vita. Questo è un film che ci deve porre delle riflessioni sulla famiglia, sulla genitorialità, sull'adozione, sulla disabilità. E quindi è uno spunto. Noi siamo presi come spunto, ma in realtà io spero che sia un film sociale che entri nelle case delle persone e che faccia comprendere appunto che la famiglia è tanto, non è una sola cosa. Lei ha combattuto tanto, perché insomma quando le l'hanno affidata lei poi ha temuto che Alba potesse essere tolta. Sì, io potevo rischiare che Alba mi fosse tolta, sono riuscito ad ottenere l'adozione speciale con un articolo 44. Ho avuto un bravo avvocato che mi ha aiutato e che mi ha dato la possibilità di portare in tribunale questa mia richiesta. Ho avuto la fortuna di incontrare un giudice lungimirante, il tribunale di Napoli in questo è all'avanguardia. Continuamente fa degli affidi a delle famiglie che si trasformano poi in adozioni di bambini disabili. Ultimamente lo abbiamo fatto ancora con un bambino della casa di Matteo e questo è stato una grande opportunità. Allora, in bocca al lupo per il film, soprattutto in bocca al lupo per Alba che ha ripreso la scuola. E speriamo che tanti bambini possano avere la fortuna di crescere nell'amore di una famiglia, qualunque sia la famiglia. Esatto, grazie. Grazie e buon lavoro. Anche a lei.